Giuseppe Vatino, Nuovi Arcobaleni, Sovera Edizioni Pagina 33, l'ispirazione Lipsia, inverno del 1723 Questa città è sempre buia, fredda, oscura, umida, nelle sue fondamenta. Le nubi nere e cariche di pioggia si addensano minacciose a Ponente ogni pomeriggio. Sono solo qui, in una piccola stanza vicino alla sagristia, nella cattedrale gotica dalle alte guglie in cui gli angeli e i demoni si rincorrono in un girotondo affatato. Posso vedere i grandi vetri smaltati, rossi, verdi e blu, che come pietre preziose sono incastonati nella volta e da cui filtra ogni tanto qualche raro raggio di questo pallido sole. Il grande organo mi guarda maestoso e imponente, vuole che io componga qualcosa per lui, ma cosa? Le gocce cadono sul tetto, regolari e cadenzate, poi quelle più veloci urtano i bordi e schizzano giù fino al suolo. Le gocce si inseguono, si raggiungono, si fondono, si separano nuovamente, urtano le grondaie e sono di nuovo proiettate lontano. No